Abbiamo già dedicato un paio di video alla figura di Napoleone III, imperatore dei francesi, prima meglio Luigi Napoleone Bonaparte e poi appunto Napoleone III. Abbiamo visto la sua gioventù da carbonaro anche in Italia, abbiamo proseguito con la sua elezione a Presidente della Repubblica quando la Francia era diventata appunto di nuovo per la seconda volta una repubblica e siamo arrivati proprio nell'ultimo video a vedere il colpo di stato di fatto con cui Napoleone III si fa proclamare appunto imperatore, assume questo nome di Napoleone III e si prepara a governare la Francia cercando di emulare in piccolo dirà qualche commentatore critico di emulare lo zio Napoleone I. Ma come governò Napoleone III non l'abbiamo ancora detto perché certo da Presidente della Repubblica abbiamo visto alcune mosse ma in realtà è stata una breve parentesi quella. Oggi dobbiamo vedere invece Napoleone III al comando e portatore di una politica imperiale molto caratteristica che in parte rinnegò anche i presupposti iniziali del buonapartismo ma che segnò sicuramente la Francia della seconda metà dell'Ottocento. Oggi lo vediamo partendo in particolare dalla politica interna ed economica. Vedremo come tenta di ammodernare, rivedere, rilanciare la Francia. Per quanto riguarda la politica estera che avrà un ruolo molto importante anch'essa, anzi poi fu decisiva per il crollo dell'impero, ecco sulla politica estera faremo un video a parte, un video apposito per diciamo così scavare bene all'interno di queste scelte riguardo alle guerre, alle alleanze, alla diplomazia di Napoleone III. Ma oggi ci concentriamo, dicevo, sulla politica interna. Andiamo a cominciare. Un socio di caffè nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare che da contratto devo esibire, me l'hanno regalata i miei ex studenti quindi devo mostrarla all'inizio di ogni video, come ci sono i miei compagni d'avventura Topolino, Tostoi, Batman di Andrea, il mostro peloso, il cuscino, quest'altro mostro che si intravede forse un po' qui, io mi chiamo Armando Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia, insegno nel liceo scientifico di Rovigo e da due anni e mezzo su questo canale realizzo video spiegazioni di storia, di filosofia e di educazione civica che ripercorrono grosso modo il programma che si fa alle superiori ma molto spesso offrono spunti per l'università, programmi anche universitari oppure per preparare concorsi oppure ancora, meglio ancora direi, per semplice curiosità, voglia di conoscere e voglia di approfondire i temi della storia, della filosofia e dell'educazione civica quindi se vi piacciono queste materie date un'occhiata al canale, date un'occhiata anche in descrizione a questo video e trovate già alcune direttrici per orientarvi oggi parliamo di storia, ma come vi dicevo parliamo di una storia che spesso nel programma delle superiori si sfiora un po' velocemente e magari appunto si approfondisce di più all'università ed è storia di Francia e storia di un periodo particolare del cosiddetto secondo impero il periodo che va sostanzialmente dal 1852 al 1870, questi sono i due anni cardine un ventennio scarso, 18 anni, in cui appunto questo Luigi Napoleone Bonaparte nipote di Napoleone Bonaparte, il celeberrimo imperatore dei francesi, questo Luigi Napoleone Bonaparte appunto si fa proclamare a sua volta imperatore, fonda il secondo impero e tenta di porci alla guida di un paese, la Francia, che vorrebbe diventare il paese guida, ritornare ad essere il paese guida dell'Europa. Non lo è più, non lo è del tutto, beh diciamo che l'Ottocento è stato un secolo complicato per i francesi, l'abbiamo visto anche in varie puntate della nostra serie del corso di storia. Nel Settecento la Francia aveva subito grossi colpi dall'Inghilterra nella sua politica coloniale, nella sua economia anche perché era un'economia molto in difficoltà e questa crisi diciamo che la Francia aveva attraversato nel corso del Settecento aveva poi portato alla rivoluzione francese e a un nuovo rilancio anche della Francia perché sotto Napoleone in particolare la Francia era arrivata davvero a dominare l'Europa o quasi tutta l'Europa. Poi caduto Napoleone con la restaurazione la Francia si era vista sicuramente ridimensionata ed era passata soprattutto attraverso tutta una serie di sconvolgimenti, di moti continui, l'Ottocento, la prima metà è un secolo di cambiamenti, di slanci in avanti e ritorni indietro, insomma la Francia non sa bene che faccia darsi. Fino che appunto dopo il 48, dopo la Repubblica di nuovo eccetera emerge questa figura di Napoleone III che come vi dicevo nelle puntate precedenti in descrizione trovate comunque i link per recuperarle se ve le siete perse. Nei primi anni quando Napoleone aspirava al potere ma ancora non ce l'aveva si era presentato anche come un difensore delle classi umili. Il buonapartismo declinato alla maniera di Luigi Napoleone Bonaparte era stato sì politica di grandezza, politica di forza sulla scorta dell'esempio di Napoleone I ma anche politica sociale. Napoleone III quando era ancora solo Luigi Napoleone Bonaparte si presentava come non dico un socialista che sarebbe troppo ma un moderato che teneva l'occhio aperto riguardo alle istanze sociali, riguardo alle rivendicazioni delle classi più umili. Diceva non seguite i socialisti perché i socialisti vi porteranno alla rovina ma avete ragione a chiedere qualche cambiamento e il governo se io fossi al governo vi dovrebbe dare qualche cambiamento, dovrebbe agire per migliorare la condizione delle classi più umili eccetera. E abbiamo visto qualche misura che aveva proposto negli anni così all'opposizione diciamo da aspirante governante. Ora che ha il governo? Napoleone mantiene queste promesse cioè davvero si presenta come un uomo moderato di centro che da un lato va a una politica di forza certo ma dall'altro anche una politica attenta alla società, agli strati più umili magari con un dirigismo dall'alto? Ecco dobbiamo dire sì e no perché da un lato Napoleone rimane fedele a certe premesse cioè ad esempio l'idea che spetti al governo il compito di guidare ogni ambito della scena e quindi siamo davanti lo vedremo adesso oggi nella politica economica e nella politica interna ha un dirigismo sostanzialmente cioè il governo che si assume l'onere di guidare l'economia, di guidare la società, di guidare la politica interna e quando dico governo intendo Napoleone III che ovviamente è il referente ultimo di ogni decisione. Quindi tanto Stato, un ruolo attivo dello Stato, un ruolo preeminente dello Stato incarnato poi nella figura dell'imperatore appunto. E quindi da questo punto di vista trova conferma quello che era l'ideale bonapartista. Nel bonapartismo per come lo si era inteso un uomo forte al comando appunto Napoleone III prima ancora Napoleone I con la sua capacità con la sua sapienza con la sua intelligenza teorica almeno doveva guidare lo Stato verso il bene. Quindi questo viene confermato. Quello che non viene tanto confermato è l'attenzione alle classi più umili perché se Napoleone III si è rappresentato come il protettore anche per certi versi dei poveri e per questo aveva ricevuto anche l'appoggio di intellettuali come Victor Hugo, dopo il colpo di Stato appunto tra il 51 e il 52 diciamo che dei poveri un po' si dimentica. Un po' si dimentica perché la Francia che nel suo ventennio diciamo di governo cresce e si sviluppa è una Francia a doppia trazione. Cioè sicuramente, adesso li vedremo, gli interventi di Napoleone III in economia sono molto efficaci. Quindi la Francia vede i suoi indicatori economici crescere. C'è una crescita del PIL, c'è una crescita delle esportazioni, c'è una crescita del volume d'affari, insomma crescono tutti gli indicatori più importanti quindi l'economia francese cresce e si sviluppa. Ma questa crescita è diseguale. Per cui ci sono larghi effetti della popolazione che si arricchiscono e sono soprattutto le classi medie e le classi alte. E però ci sono anche frange della popolazione, delle classi più umili che invece vedono forse peggiorare la loro condizione, anzi senza forse. Vedono complessi i loro diritti e vedono anche ridursi il potere d'acquisto perché adesso vedremo c'è anche una certa inflazione. Quindi se doveva essere un padre padrone che guida la Francia e tutte le classi sociali verso la concordia e verso il bene, ecco questo obiettivo viene in parte tradito e dimenticato. Ma direi anche volutamente perché Napolone III fa una scelta precisa di campo. Una scelta che avvantaggia appunto le classi medie e anche la piccola borghesia per certi versi e invece danneggia il certo agricolo e il certo operaio che in Francia inizia ad avere un certo peso, inizia a essere consistente voglio dire. E però appunto viene frustrato da una situazione che va in realtà per loro peggiorando. Quindi in primo luogo dobbiamo dire questo. Sicuramente un ruolo attivo dello Stato, un ruolo dirigista ma direi anche cautamente dirigista. Adesso non vorrei neanche dare l'idea di un dirigismo troppo acceso. Nel senso che Napolone III vuole sicuramente rafforzare il ruolo della Francia, vuole far sviluppare l'economia e vuole anche intervenire per sviluppare l'economia ma in parallelo fa anche una scelta di tipo liberista in campo economico. Allora liberismo penso che lo sappiate, dovreste saperlo cosa significa ma perché era di stato nelle puntate precedenti dei nostri corsi liberista vuol dire in economia una politica in cui lo Stato in realtà teoricamente dovrebbe intervenire molto poco, in cui si lascia spazio al libero mercato, in cui si tolgono tutti quei vincoli che tendono appunto a limitare o a mettere dei paletti a libero mercato. Esempio, si tolgono i dazi doganali, di solito in un'economia di stampo liberista. In effetti Napoleone III si impegna ad abbassare molti dazi doganali, trovando anche una certa ostilità in Francia perché ci sono anche imprenditori che mal digeriscono questa scelta di Napoleone III di togliere i dazi doganali, quindi di non proteggere più l'industria nazionale. E però Napoleone III pensa che la scelta liberista possa essere la scossa di cui la Francia ha bisogno. La Francia in effetti non versava dal punto di vista economico in buone acque quando Napoleone III si mette alla sua guida. Dopo tutte le vicissitudini della prima metà dell'Ottocento, dopo questi alti e bassi di moti, contromoti, restaurazione, rivoluzione eccetera, la Francia era rimasta un po' indietro rispetto ai grandi paesi europei. Era indietro rispetto all'Inghilterra sicuramente che era avanti anni luce rispetto a tutti i paesi europei perché l'Inghilterra aveva avuto la grande rivoluzione industriale decenni prima degli altri paesi e quindi si era portata in vantaggio diciamo. Quindi sicuramente era indietro rispetto all'Inghilterra ma era indietro anche rispetto ad altri paesi vicini. Era indietro rispetto anche all'area tedesca dove peraltro non esisteva ancora uno stato unitario ma c'erano già cospicui gruppi e nuclei industriali che avevano la meglio sui nuclei industriali francesi e poi pareva arretrata perfino rispetto a paesi piccoli come il Belgio e come l'Olanda. Per fare solo un paragone il Belgio che era un paese molto più piccolo della Francia ed è ancora oggi un paese estremamente piccolo rispetto alla Francia aveva una quantità di strade ferrate che era quasi paragonabile a quella francese. Quindi un paese che era non so un ventesimo più o meno della Francia aveva una ferrovia che era comparabile a quella francese, cosa che mostrava quanto arretrata invece fosse appunto la rete ferroviaria francese. Chiaramente non avere rete ferroviaria in questa fase è un handicap non da poco. Ricorderete che per dire quando abbiamo parlato dell'Italia, magari in descrizione vi metto un link, abbiamo anche detto che proprio negli anni 50 il primo investimento importante che fa Cavour in Piemonte per rilanciare l'economia piemontese è proprio quella di creare strade ferrate, trafori eccetera perché quella è la via per i commerci, quella è la via per la crescita economica in questa fase e la Francia sembra essere un po' indietro. Allora bisogna che la Francia si sviluppi e come si può fare? Ripeto, doppio binario, visto che parliamo di strade ferrate. Da un lato dirigismo statale, cioè lo Stato mette i soldi, investe, compra, stimola, fa anche varie misure legislative per favorire, per incrementare gli investimenti. A volte addirittura interviene ordinando ad alcune società di fondersi eccetera, quindi sicuramente è un ruolo attivo o dirigista del governo, ma dall'altro campo ha anche una scelta di stampo liberista, cioè io vi dirigo, io vi do i soldi, io faccio gli investimenti ma poi dovete a un certo punto cavarvela anche da soli col mercato e dovete imparare ad ammodernarvi. C'è una scelta originale questa di Napoleone III che in effetti, ripeto, dal punto di vista dello sviluppo economico coglie perfettamente nel segno, perché la Francia cresce. Il primo settore in cui Napoleone investì moltissimi sforzi fu il settore appunto dei trasporti, il settore delle infrastrutture, perché la Francia come vi dicevo era dotata di una rete ferroviaria molto debole rispetto al resto d'Europa quando lui salì al potere. Ebbene in appunto 18 anni, 20 anni, gli sforzi furono sconsistenti e la Francia divenne un soggetto di primaria importanza per copertura ferroviaria, doveva avere circa 20.000 km di linea quando appunto 20 anni prima aveva appena 3.000-3.500, quindi direi quasi 8 volte o 9 volte la linea che c'era in precedenza. Sì, grandi investimenti, Napoleone riuscì ad ottenere questa nuova copertura ferroviaria grazie anche a prestiti da un lato alle società ferroviarie, tra l'altro anche pressioni perché appunto le moltissime società ferroviarie che erano presenti in Francia si fondessero tra loro a crearne poche, ma con capitali maggiori per fare gli investimenti necessari. Quindi come vi dicevo dirigismo e però anche slancio perché ovviamente la rete ferroviaria era fondamentale in quel momento per permettere il movimento delle merci e delle persone. Questo avrebbe fatto la Francia uno dei paesi da questo punto di vista più importanti. Se pensate anche solo al fatto che proprio verso la fine dell'Ottocento, fine età imperiale e poi Terza Repubblica, vedremo quei quadri ad esempio anche degli impressionisti nelle stazioni ferroviarie che diventeranno un punto cartine della vita anche dei cittadini francesi, dei parigini e non solo dei parigini, proprio perché queste grandi stazioni dove arrivava il traffico merci e di persone ferroviarie divennero un simbolo di questo progresso e anche di sviluppo dell'economia francese. Ma non solo stare ferrate, bisogna dire che grandi investimenti vennero fatti anche sui porti per incrementare la marina mercantile che in effetti era anche essa rimasta un po' indietro rispetto alla concorrenza europea, invece ebbe un grande sviluppo fino ad arrivare diciamo a essere la seconda marina mercantile europea per traffico dopo quella inglese che era sostanzialmente inarrivabile, però ecco sicuramente alcuni porti francesi vennero ampliati, le flotte, le navi mercantili vennero ampliate anch'esse, insomma ci furono grandi successi da questo punto di vista. Ma la cosa che più di tutte fu il simbolo di questo sviluppo dell'infrastruttura fu un'opera, una grande opera che la Francia realizzò lontana dai confini francesi, la fece in Egitto, sto parlando del canale di Suez che ancora oggi è uno snodo fondamentale dell'economia anche europea e mediterranea eccetera, ebbene questo canale venne realizzato su iniziativa proprio francese, voi sapete che l'Africa e l'Asia sono connesse da questo istmo appunto a Suez e forse sapete che già dall'antichità si era ipotizzato di tagliare questo istmo, di riuscire a realizzare un passaggio per le navi che potessero passare dal Mediterraneo al Mar Rosso e quindi poi verso l'oceano indiano. Ora questa operazione venne paventata più volte, venne ipotizzata più volte, forse quando ci si andò più concretamente vicini fu durante la permanenza in Egitto di Napoleone I, ricordate che prima di diventare imperatore Napoleone poco dopo la campagna d'Italia viene inviato in Egitto per contrastare i traffici inglesi, sconfigge i mamelucchi e però rimane bloccato in Egitto per circa un anno. Ecco, mentre lì in Egitto Napoleone proprio esplora questo grande territorio, ne porta in Francia anche le ricchezze, per certi versi i reperti e però dice anche ma qua a Suez un bel canale ci starebbe bene. Solo che i primi rilevi effettuati in quell'età, a fine 1700, siamo al 1799, sembrano mostrare che l'operazione sia troppo costosa. In fondo sembra esserci un dislivello tra i due mari, insomma l'operazione sarebbe anche fattibile ma costosissima e quindi si rinuncia subito all'impresa. In realtà poi negli anni successivi vari funzionari e studiosi francesi si recano di nuovo in Egitto a studiare meglio la situazione, ad analizzare meglio la situazione e alla fine, proprio negli anni 40, dell'ottocento, si riesce a realizzare un progetto che dice no, guardate che forse i costi sono meno ingenti di quanto sembrava in origine. C'è in particolare un diplomatico francese, Ferdinand de Lesseps, che si trova in Egitto, vive in Egitto per molti decenni e insiste su questa operazione e alla fine convince Napoleone III che d'altronde non vede l'ora di fare grandi operazioni economiche, grandi investimenti per rilanciare l'economia. Ovviamente fare questa operazione con capitali francesi in Egitto farebbe sì che poi le società francesi avessero una sorta di esclusiva sull'utilizzo di questo canale. In effetti l'operazione si compie, il canale è un'operazione anche abbastanza complicata, ha grandi lavori eccetera, viene ultimato nel 1867, pochi anni prima della caduta di Napoleone III, viene inaugurato in pompa magna, l'imperatrice va in Egitto ad inaugurare questa apertura, ma in generale la Francia celebra come un grande progresso questo successo, come un successo proprio francese, tipicamente francese, in effetti la società che gestisce il canale inizialmente è in comproprietà tra società francesi e una società egiziana, quindi si spartiscono a metà, l'Egitto e la Francia, lo sfruttamento di questo canale. E ripeto è un segnale molto forte, anche proprio epocale per certi versi, tutta la stampa europea celebra questa grande impresa perché per la prima volta l'uomo domina la natura in maniera così netta, così forte, così audace. Poi bisogna anche dire, per chiudere questa parentesi, che inizialmente i capitali sono francesi e egiziani, quindi la società che gestisce è appunto a metà tra francesi e egiziani, poi gli egiziani nel giro di poco tempo vanno in crisi, sono costretti a cedere le quote della società e le cedono agli inglesi, quindi per molto tempo la società che gestirà il canale di Suez sarà una compartecipata anglo-francese e questo fino a metà del Novecento, quando poi ci sarà la crisi di Suez, ma di quella abbiamo parlato in storia del Novecento, casomai in descrizione vi metto un link se volete recuperarvi quella crisi e questo vi aiuto a capire come mai in quella crisi si scontrarono Egitto, Francia, Inghilterra e poi vabbè anche Israele, ma quello è un altro discorso. Segno però, ripeto, di un grande interesse di Napoleone III a fare grandi opere, che siano poi anche di prestigio ovviamente, che mostrino l'intraprendenza della Francia, ma anche a puntare molto, molto sugli scambi commerciali. In effetti il secondo punto cartine dell'azione economica di Napoleone III, oltre appunto alle infrastrutture, fu lo sviluppo dei commerci, perché le strade servivano a spostare merci che poi andavano vendute e o comprate ovviamente le navi idem, i canali idem, quindi infrastrutture portano a commerci. Per sviluppare i commerci, come vi ho detto, la scelta è quella liberista, quindi abbattiamo i dazi do canali. Per far questo Napoleone inizia a tessere trattative con vari paesi europei. Quella più emblematica è la trattativa che nel 1860 lo porta a firmare un accordo con la Gran Bretagna, proprio per ridurre i dazi do canali. Attenzione, la Gran Bretagna, fino a pochi anni prima, era il nemico storico della Francia. Noi l'abbiamo visto anche con Napoleone I, che è appunto l'unico nemico che rimane in piedi, contro cui si scaglia in tutti i modi Napoleone, è sempre solo l'Inghilterra. E tradizionalmente anche nel 1700 l'Inghilterra e Francia si erano misurati in guerra l'una contro l'altra per l'America, per l'India, eccetera. Ora invece Napoleone III sembra aprire una collaborazione con l'Inghilterra. Vi apre anche perché lui stesso, ricorderete l'abbiamo detto nella scorsa puntata, ha vissuto a lungo in Inghilterra, ha trovato anche appoggi in Inghilterra. In fondo anche la sua impresa di tornare in Francia, diventare Presidente della Repubblica, è stata possibile anche grazie a capitali inglesi. Questa amicizia con l'Inghilterra permane. Quindi Napoleone III non ha più voglia, interesse a fare grandi conflitti, a creare grandi conflitti con l'Inghilterra, invece è meglio trovare accordi anche di natura economica e commerciale. E appunto nel 1860 arriva questo primo importante accordo per i dazi deoganali che, vi dicevo prima, crea qualche scontento in Francia, ma Napoleone tira diritto per la sua strada e negli anni successivi arriveranno altri accordi con altri Stati europei, sempre in questa direttrice. Quindi i dazi deoganali effettivamente si abbassano. Aumenta la concorrenza, alcuni settori dell'economia francese ovviamente vanno in crisi, ma alcuni altri in realtà reagiscono bene a questa concorrenza. Ad esempio, a reagire bene è l'agricoltura. L'agricoltura ha un discreto sviluppo in questa fase e soprattutto aumenta la produttività. Cioè si fanno investimenti per aumentare la produzione agricola anche davanti a un calo degli addetti. In effetti nei vent'anni di governo di Napoleone III il numero di francesi che lavorano nei campi cala, perché aumenta invece il numero dei francesi che lavorano nell'industria, ma questo calo, non drastico, ma graduale del numero di impiegati nel settore primario non incide sulla produzione. Anzi, la produzione aumenta. Segno che l'introduzione di nuove tecniche agricole, anche e soprattutto sviluppate grazie a scuole specializzate che Napoleone III si premura a rifinanziare per avere nuovi tecnici che sappiano lavorare meglio la terra e sappiano anche sfruttare le nuove scoperte per la produttività della terra, unitamente all'introduzione di macchine eccetera, favorisce uno sviluppo agricolo importante. C'è da dire che da lì in poi la Francia effettivamente dal punto di vista agricolo non partirà più, se non proprio durante le guerre mondiali, insomma, ma se non in situazioni eccezionali non partirà più problemi di approvvigionamento, di coltivazione, di carestie eccetera. Segno di un'agricoltura che ormai si sta facendo moderna, efficace ed efficiente. Quindi anche da quel punto di vista lì il meccanismo funziona. Non solo, quindi, diciamo, ricapitoliamo, abbiamo detto dati doganali abbassati, agricoltura che regge bene e anzi cresce, terzo elemento, le banche. Allora, molto, molto frequente la nascita in questa fase di nuovi istituti di credito, anche importanti, anche grandi, alcuni esistono ancora oggi. Tra tutti gli anni 50 e gli anni 60, il Credit Lyonnais, la Société Générale, una marea di altre società, istituti di credito, società che fanno prestiti, che erogano prestiti alle industrie e ai privati, e a volte perfino anche allo Stato, che nasce e si sviluppa. Perché? Perché è il momento dei grandi investimenti. In fondo, Napoleone III ha lanciato questo spirito di iniziativa, bisogna investire e gli investimenti ritorneranno. C'è un circolo virtuoso in Francia, per cui effettivamente molti investono e questi investimenti fruttano e quindi si hanno nuovi capitali da investire, eccetera. In questo servono istituti di credito, servono banche che possano alimentare questo meccanismo dell'investimento e ne lascono tante. Quarto e ultimo elemento, appunto, commerciale di sviluppo economico, sono i cosiddetti centri commerciali. Non sono poi così rilevanti nella macroeconomia, però sono un simbolo di un'epoca che sta cambiando, perché a Parigi prima, poi via via, anche in altre città francesi, inizieranno a comparire i primi esempi di grandi magazzini. Anzi, sono proprio un'invenzione francese questi grandi magazzini, oggi diremmo centri commerciali, che nascono a Parigi e poi si diffondono come una moda anche in altre grandi capitali europee, anche Londra, anche Berlino, perfino Milano, ma dopo, prima Parigi. Questi centri commerciali, i primi timidi esempi sono già negli anni 50, ma poi il successo di questi centri commerciali che vedono aumentare i loro affari, i loro capitali in maniera esponenziale porta all'apertura di altri centri di questo tipo. Il primo è Bon Marchais, il più famoso storico di Parigi, poi arrivano Pintemps, la Samaritan e altri ancora. Quindi, di nuovo, un simbolo anche, perché questi centri commerciali sono, per l'epoca, qualcosa di straordinario innovativo. Sono luoghi in cui tu puoi andare, puoi trovare di tutto, cosa a cui non si era minimamente abituati, in cui trovi sfarzo, anche eleganza, cose costose, oggetti costosi, ma a volte anche oggetti a buon mercato, diciamo, abbastanza. Quindi, se avete mai fatto, siete mai andati ai magazzini Lafayette, ad esempio, a Parigi, avete presente questo modello, no? Disposto su più piani, vestiario, moda, cosmetici, ma anche oggetti per la scuola, ma anche cancelleria, libreria, di tutto e di più. Quest'idea del commercio che si espande e tocca tutti i vari settori e un luogo in cui puoi trovare tutto quello che ti può servire alimenta il primo consumismo, anche. Non è ancora il consumismo del Novecento o della Belle Epoque di fine Ottocento, che sarà ancora più intenso. Però, però, è già qualcosa di nuovo, una novità assoluta per la Francia. Tutto bene, quindi? La politica interna va bene perché cresce l'economia? Ci sono investimenti? Tutti stanno bene? In realtà, non proprio. Ve l'ho detto anche prima. Questa crescita economica sicuramente è forte, sicuramente ingente, c'è un tasso di crescita annuo spesso superiore al 5% del PIL, quindi è un boom economico per certi versi in certe fasi, ma è una crescita, come vi dicevo, diseguale. Perché? Perché non tutte le classi sociali vedono migliorare la loro condizione. Alcune la vedono migliorare anche molto, alcune invece la vedono addirittura peggiorare. E questo peggioramento, gli esclusi, diciamo, da questa crescita economica, sono soprattutto le classi più umidi, vi dicevo anche prima, cioè la classe operaia, che inizia ad avere una certa consistenza perché questo sviluppo economico porta a un aumento delle fabbriche anche in Francia e quindi a un aumento degli addetti, degli operai, ma anche appunto i contadini. Questo perché? Perché la Francia in questo periodo di grandi investimenti, di grande sviluppo, è attraversata anche da una costante inflazione. Un'inflazione non fortissima, non è un'inflazione, diciamo, ingestibile come in certe altre fasi storiche vedremo. Un'inflazione contenuta ma costante. E questa inflazione contenuta ma costante danneggia soprattutto le classi a reddito fisso e soprattutto le classi che hanno un reddito fisso e hanno un reddito fisso particolarmente basso, cioè appunto gli operai contadini. Queste classi vedono ridursi il potere d'acquisto, cioè quello che possono comprare con il loro salario nel corso degli anni e non vedono grandi successi, grandi vantaggi da questo sviluppo economico, rimangono i margini. E questa marginalizzazione la si vede anche, oltre che dal punto di vista economico, anche in alcune scelte di Napoleone III. Ve ne cito due. La prima riguarda i carceri, le carceri, nel senso che Napoleone implementa l'uso di intanto far restare tutta una serie di detenuti politici, di criminali politici, cioè personaggi spesso di estrema sinistra, socialisti, che non possono chiaramente fare propaganda per migliorare le condizioni degli operai, eccetera. Quindi la retenzione politica viene rilanciata in maniera piuttosto forte. Ma soprattutto questi detenuti politici vengono spesso speriti via, speriti all'estero, ve l'ho detto anche con colpo di Stato che Napoleone e Stato aveva ritrovato questa pratica di spedire gli uomini più pericolosi all'estero. Soprattutto verso, da un lato, la Guyana francese, che è la zona peggiore, l'isola del diavolo in Sud America, dove avete letto forse anche libri, film di questo tipo, dove i detenuti più pericolosi venivano mandati là, penso a Papillon, per dirne uno. Se l'avete visto, avete letto il libro, sapete di cosa parlo. Ebbene, lì vengono mandati i detenuti politici più pericolosi, quelli un po' meno pericolosi verso la Nuova Caledonia perlopiù, quindi in Oceania, dall'altra parte del mondo, comunque capite proprio dall'altra parte del mondo. La Perdonetezzo fa in modo di mettere un oceano tra sé e questi sobillatori. Spesso messi poi i lavori forzati, insomma, sono condizioni abbastanza inumane di detenzione. Segno che, sì sì, cresciamo, ci sviluppiamo, ma chi prova a opporsi a Napoleone III non fa una bella fine di solito. E questo è un aspetto che va segnalato. L'altro aspetto che vi dicevo, che segna anche socialmente questa compressione delle classi più umili, si vede nella ristrutturazione di Parigi. Prima vi ho detto che Napoleone III investe molti sforzi sulle strade, certo, ma vi parlavo soprattutto di ferrovie, strade ferrate, canali, porti, eccetera. Ma in realtà bisogna parlare anche delle strade cittadine, soprattutto per quanto riguarda Parigi. Allora, io ho fatto anche un video, tra l'altro, in cui ho approfondito questo tema e ve lo metto anche in descrizione parlando di urbanistica, storia dell'urbanistica, però soffermiamoci un attimo su questa faccenda. Parigi, fino appunto alla metà dell'Ottocento, era molto diversa da come la vedete oggi quando andate a visitare Parigi, o almeno il centro storico di Parigi. Perché il centro storico è di origine medievale, Parigi era stata già in Medioevo una città molto importante, no? E come ben sapete le città medievali avevano una struttura molto tipica, erano fatte per lo più di strade molto piccole, strette e anguste, tortuose anche, no? Mai dritte, ma sempre circolari. Se pensate alle nostre città italiane medievali, pensate a Bologna, al centro di Bologna, se avete presente il centro di Bologna, è fatto di tutte le stadine concentriche e piccole. Pensate a Genova, quanto piccole sono le strade, pensate a Venezia, le Calli, insomma tutte le città medievali italiane che non sono state poi riviste e ritoccate, hanno strade del centro piccole e strette. Poi in certi casi addirittura anguste, proprio asfissianti, in certi casi un pochino meno strette, ma comunque più o meno così. Così era anche Parigi. E questo era stato un fattore durante la rivoluzione francese e durante anche i moti dell'Ottocento, durante i moti del 1830, del 1848. Perché? Perché immaginatevi la scena, la gente scende in strada per protestare, la rivoluzione francese era accaduto, i moti del 30 e del 48 era accaduto, scende in piazza e protesta violentemente, tu che sei il re mandi l'esercito magari o la forza pubblica. E però, in strade così strette, non puoi andare con tanti, che so, cavalli, tante truppe, perché sono strette, ci passano poche persone. E d'altro canto, proprio perché sono strette, i manifestanti possono facilmente creare le barricate. Ricordate che abbiamo detto più volte che le rivolte dell'Ottocento, del primo Ottocento, si basano anche sulle barricate. Cioè, la gente basta che ammassi in strada sacchi, mobili, tutto quello che trova e blocca tutto, blocca l'avanzata di qualsiasi esercito. Lì, da dietro a queste barricate, si può sparare e ci si può difendere, proprio perché le strade sono strette. Allora, Napoleone III, consapevole di tutto ciò, dice che bisogna rifare Parigi, bisogna rifare il centro di Parigi. Apparentemente, dice, lo facciamo per dare più lustro alla città, una città grandiosa, moderna, deve avere strade grandiose e moderne. Ma in realtà c'è anche, ovviamente, un intento politico, che è quello di tenere sotto controllo i parigini, che sono da sempre un elemento di instabilità in Francia. Ricordate, l'abbiamo detto tante volte con la rivoluzione francese e poi tutti i suoi eventi successivi. Quindi bisogna cambiare le strade in modo che non siano più stade strette in cui si possono fare facilmente barricate, che non siano stade tortuose, ma grandi viali dritti, amplissimi e davvero in cui si possa vedere fino a molto lontano, i cosiddetti boulevard. Se andate a Parigi oggi, pensate ai Champs-Élysées, c'è il boulevard che va avanti per chilometri, ma tutta l'ara zero dal centro di Parigi si irradiano questi grandi viali, vialoni enormi, dove possono passare oggi i carri armati, per intenderci. Proprio perché l'esercito ci passa alla grande, dove fanno anche le parate volte. Sono viali giganteschi costruiti sotto l'impero di Napoleone III, voluti per un fine anche architettonico, anche urbanistico. Certo, poi il centro medievale aveva tutta una serie di problemi di natura sanitaria, fognaria, c'era anche quell'elemento lì sicuramente. Viali dritti e ordinati rendono più facile la pulizia delle strade, la rete fognaria, meno problemi di affastellamento di edifici, meno malattie, sicuramente questo è importante, ma anche maggior controllo. Questa operazione di ridisegnare, rifare il centro cittadino di Parigi, che è ovviamente molto impegnativa, viene affidata a un barone, al barone Hausmann, che si prende l'incarico per 15 anni, 20 anni quasi, di ridisegnare Parigi. Ovviamente questo vuol dire abbattere vecchi edifici, edifici anche storici, requisire case, costruirne di nuove, allargare gli spiazzi, insomma vuol dire una grande opera, anche lunga, anche impegnativa, costosissima, ma che in effetti si compie. Alla fine gli ultimi sforzi arrivano nel 1869, poco prima della guerra franco-prussiana, quando tutto l'impero crolla. Segno che alla fine questi lavori di Hausmann su Parigi sono un po' anche l'ascito per certi versi di Napoleone III sulla città. Ma questo ha un'ulteriore conseguenza, poi abbiamo finito. Sulle abitazioni, perché se avete presente le stade parigine, mostrano, se riesco vi mostro anche qualche immagine, hanno spesso questi grandi palazzi, molto caratteristici, con facciate molto belle, molto eleganti, ma tutte piuttosto simili, proprio perché Hausmann impose anche una serie di direttive su come fare le facciate, su come devono essere fatte le case, proprio per regolamentare anche l'urbanistica cittadina. Ma questo fece sì che il costo degli affitti nel centro storico di Parigi iniziò a salire anche molto. Tutti questi lavori, rifacimento, nuove case, nuovi edifici, eccetera, gli affitti salirono di prezzo anche parecchio. Il che ebbe come effetto è che le classi più umili non potevano più permettersi di vivere nel centro storico di Parigi e furono portate a trasferirsi in periferia. Questa è una cosa importante perché in realtà fino appunto a metà ottocento nel centro cittadino convivevano ricchi e poveri. I vecchi palazzi parigini, ma non solo Parigi era così anche in altre città europee, i vecchi palazzi del centro vedevano convivere ai piani diversi, magari in massarda, magari i poveri o nei sotterranei poveri, nei piani nobili, i ricchi, ma appunto si chiamavano piani nobili perché c'erano piani abitati dai nobili o dai ricchi e piani non abitati dai nobili. Perché? Perché si viveva spalla a spalla insieme, no? Pertanto anche quando c'erano le rivolte, vi ho detto i sanculotti durante la rivoluzione francese, erano gente che viveva in centro, non vivevano nell'Interland, vivevano in centro a Parigi e protestavano in centro a Parigi. Ora questa situazione si altera perché le classi più umidi che si vedono già danneggiate in qualche misura dall'inflazione, che si vedono compressi nei loro diritti da una politica abbastanza autoritaria, si vedono anche costrette a lasciare il centro di Parigi e trasferirsi laddove gli affitti costano meno, quindi verso la periferia, mentre il centro storico rimane prerogativa e in mano solo e esclusivamente delle classi più ricche. Segno di nuovo di uno sviluppo forte, certo, di un grande dirigismo, qui è lo Stato che decide di fare queste operazioni, abbattere gli edifici, di ridisegnare le strade anche in maniera invasiva, ma un dirigismo che premia alcune classi anche molto, dà sviluppo economico anche forte, ma danneggia le classi più umidi. Ecco questo era quello che secondo me c'era da dire oggi per parlare della politica interna, della politica economica di Napolone III. Prossima volta, come vi ho già anticipato, parliamo invece della politica estera, dove c'è tanto da dire, c'è anche l'Italia in mezzo e ne parleremo, a parte che sono cose che in parte abbiamo già detto, ma poi parleremo dei rapporti con la Prussia, della grandeur di Napolone III, insomma, avremo altre cose da dire, ma per oggi basta. Vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i titoli che sono comparsi qui sotto mentre parlavo, così da dividere in capitoli questo video e riascoltarvi se volete un pezzo, poi trovate anche i link ai video che ho citato e trovate anche qualche consiglio di lettura se volete poi approfondire, leggere qualcosa sempre su Napolone III, robe interessanti di un certo livello, robe, libri di un certo livello. In più sempre in descrizione trovate anche i modi per rimanere in contatto, potete iscrivervi al canale, seguirmi sui social network, abbonarvi all'unisletta gratuita settimanale che consiglio sempre, insomma, io ci metto molto impegno, spero che sia anche apprezzata e poi se no anche in più, sempre in descrizione, trovate anche i modi per sostenere il canale. Se vi piace quello che faccio e volete darmi una mano a comprare i libri che costano, le attrezzature che costano, eccetera, potete darmi una mano tramite i link in descrizione. C'è anche l'abbonamento al canale YouTube che è un abbonamento in cui praticamente potete decidere di dare qualche euro al mese al canale e in cambio ricevete alcuni vantaggi, cioè video in esclusiva e in anteprima, dirette, cioè canale Telegram, dispense di filosofia, varie altre cose, se guardate trovate e poi ci sono anche altri modi meno impegnativi, donazioni, libri, eccetera, che potete fare, comprare, se volete, per dare una mano. Ho finito, grazie a tutti quelli che hanno seguito fin qui e grazie a tutti quelli che si sono abbonati, eccetera, e ci vediamo presto per concludere il percorso su Napoleone III e poi per tanti altri video, come sempre, di storia, filosofia ed educazione civica. Ciao!